Michi, il mitico DJ dello storico Chuck di Bologna, è volato nell'altra dimensione. Quando noi eravamo ragazzini e iniziavamo a fare le prime radio libri nel 75-76, avevamo due idoli, Michi e Mandrillo, che peraltro hanno anche lavorato agli inizi insieme. Chiaramente anche Vasco e il gruppo di Vasco, Massimino Riva, erano suoi amici. Tant'è che Massimo Riva iniziò a farne l'imitazione e quindi Michi del Chuck per Massimo Riva diventava Pichi del Chuck. Io documentai Massimo Riva quando nell'aprile del 1985 andammo con Vasco a Vienna e mandai in un da Bipopolu la limitazione che Massimo Riva aveva fatto di Michi. Chiaramente a Bologna tutti ne parlavano perché Michi è storico, Massimo Riva che lo imitava. In un'occasione, esattamente il 4 settembre 1985, nel backstage del concerto di Vasco Rossi a Carpi, i due si sono incontrati. Io quando vado ai concerti di Vasco la prima cosa che faccio è documento i musicisti e quindi ecco il DJ Michi che incontra Pichi interpretato da Massimo Riva. Entrambi adesso noi amiamo immaginare che si sono ritrovati nell'altra dimensione. Allora? Allora Pichi? Io sto bene. Sei te Pichi o sono io Pichi? Sono io? No, no, sono io Pichi del pacco. Allora adesso voglio vedere... Mi prendi in giro, sono io. Vuoi fare il football? No, non vuoi fare il football. Allora, io sono... No, tu sei Pichi o io sono il tuo alter ego? Ah, no, non penso mica. E tu sei il contrario. Io sono Michi, tu sei Pichi. Io sono Michi? No, lui è Pichi o io sono Michi? No, no, no. Qui è un gran casino. Qui è un gran casino. Però, però, chi è il più bravo a fare il gioco qua in mezzo? Ah, qui siamo in troppi. Qui viene anche Lorenzo, Zanarini, siamo in sette auto di gioco qui. Ci c'è un casino. Il più bravo sono io, Pichi del pacco. Prima di te ce l'ho bravo. Pichi o Pichi? Pichi. 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 Pichi, Pichi. Ma dove vai quest'altro anno Michi? A chi lo devo chiedere? A te o te? Vai al pacco o vai via? A quest'anno la vogliamo insieme. A quest'anno la vogliamo insieme. A quest'anno la vogliamo insieme quest'anno, così si scambiamo i nomi. Dopo a finire che... Non so, però basta, è bastardo. Troppa pubblicità, troppa pubblicità, troppa pubblicità. No, poi non riesce. No, così, dai. Andiamo su, dai. Scusa, Riva, cosa ne pensi della nuova pettinatura di Michi del pacco? Ma la mia pettinatura? No. Hai notato che c'è il cappello tenaxato? Un attimo all'indietro? Ah, l'ho fatta questa pettinatura. L'ho fatta. Perché l'hai fatta? C'era un giovanito dieci anni, non mi vedi? Guardami, no? Beh, è decisamente alla moda. È decisamente alla moda. No, ma è picchi che le ne abbano utilizzate, le abbano utilizzate un po' per assomigliare a me. Ma scusa, tutto questo ha un significato ben preciso oppure è fatto, non so, per un futuro, per un personaggio futuro che si deve venire a creare? Non lo so, dici qualcosa? Diccelo. Adesso è venuto a vedere il centro del mio amico vasco perché questo mi sono brillantino. Ti fai un po'? No, va, 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 va. Grazie, bimbi. Che altro vuoi? Le va sempre dietro. Le va sempre dietro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.